Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, pure per sempre voglio donare il tuo grande amore per me. La parrocchia di San Giovanni Battista è in Sant'Angelo in Teodice, che è un paese annesso a Cassino, a frazione di Cassino. E oggi è il 10 di maggio, la seconda domenica di maggio, che tradizionalmente è dedicata alla festa della Madonna della Pietà. Questa è l'icona rifigie di questa Madonna che viene portata in processione oggi dalla parrocchia al santuario, che si trova poco distante. E poi nel pomeriggio di nuovo dal santuario qui in parrocchia. La rivoluzione di Sant'Angelo per la Madonna della Pietà è nota e alle immagini lasciamo il compito di raccontarvi questa festa patronale, se così la vogliamo chiamare. Un saluto speciale, come sempre, a Doste Perino e lo ringraziamo perché tramite le immagini si annuncia il Vangelo in tutto il mondo. Grazie e buona visione. Buongiorno, mi chiamo Don Basilio, sono il capitale parrocchiale della parrocchia di Sant'Angelo in Teodice, Cassino. Stiamo oggi, il 10 maggio, secondo domenica di maggio, quando festeggiamo la Madonna della Pietà, la copatrona della nostra parrocchia. Sono qui a questa parrocchia a fare il servizio da due anni e mezzo, controlando questa festa molto sentita. Veramente ci prepariamo per tempo, cerchiamo di preparare tutto spiritualmente per questa festa. Cara per tutti noi, perché la Madonna sappiamo che è nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, con le processioni, con le messe, con tutto quello che comporta per preparare questa festa, posso dire che veramente rimane una cosa bella per la nostra vita, soprattutto a livello spirituale. cecchiamo di viola la mano, ordine. Grazie a tutti. Buongiorno, sono il paese di Giulio De Cesare, della banda musicale Città di Ceparo. Anche noi qui stamattina, qui nel paese di Sant'Angelo in Teodice, siamo perversata dal nostro servizio. E come ogni anno siamo qui presenti e siamo ben felici di essere sempre ospirati in questa meravigliosa festa della pietà. La nostra banda è in costa di una flettina di elementi. Siamo sempre a disposizione sul territorio. Con la nostra grande uniforme facciamo sempre le nostre 50-60 feste annuali. E siamo ben ieri, come ho detto Boganzi, di essere presenti. Siamo sempre a disposizione sul territorio. Siamo sempre a disposizione sul territorio. Siamo sempre a disposizione sul territorio. Siamo sempre a disposizione. Siamo sempre a disposizione sul territorio. 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 Siamo sempre a disposizione. 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 Siamo sempre a disposizione.